venditalia 2024 continua siamo allo stand di barilla mulino bianco e ci troviamo in compagnia di marco gandolfi il responsabile italia dell'azienda buongiorno marco e ancora una volta bentornato grazie mille fabio è sempre un piacere avervi qui nel nostro stand di barilla for professional cioè tutti i prodotti dedicati al mondo del consumo fuori casa in generale e nello specifico naturalmente al mondo del vending e del dei prodotti monoporzione bakery dedicato alle macchinette alla distribuzione automatica marco io e te ci siamo incontrati più volte a dire la verità negli ultimi mesi prima a host successivamente a beer and food attraction per presentare delle novità legate all'oreca in questo caso ci incontriamo a venditalia per la vostra proposta al mondo della distribuzione automatica che è già molto ampia e che cresce sempre di più intanto facciamo un piccolo riepilogo di quella che è la vostra offerta certo fabio iniziamo innanzitutto da quello che sono i nostri prodotti eroi con il mondo del ringo che è il primo prodotto snack dolce venduto nella distribuzione automatica storica presenza in monoporzione nei suoi gusti vaniglia e cioccolato e anche nei formati biscoccioc con la barretta di cioccolato sopra poi non si può dimenticare il mondo dei baiocchi nati come biscotto col ripieno alla nocciola e oggi nella sua evoluzione apprezzatissima dal mercato dei baiocchi pistacchio oltre che tutti gli altri prodotti ormai che ne fanno un brand iconico e molto conosciuto infine con l'offerta diciamo per chi è più attento al benessere e soprattutto alla natura delle barrette di cereali gran cereale queste sono i tre principali mondi dello snack dolce della nostra offerta ma abbiamo anche tanto altro ecco infatti e non a caso ci troviamo proprio in questa location del vostro stand alla tua destra abbiamo una grandissima novità di cosa si tratta la novità parla entra nel mondo del brand pandistelle un brand magico e di prodotti da sogno e riguarda la merenda pandistelle che da oggi da presto appunto sarà sul mercato in confezione dedicata al mondo vending con un allungamento della shelf life che è coerente con tutta la filiera del vending grazie a questa una tecnologia di packaging che è stata riprogettata proprio con questo scopo si unisce naturalmente al ai prodotti pandistelle già presenti nella gamma fra cui il mooncake che è il più nuoto dal il cuore soffice di cacao e alle nostre spalle quello che vedete è un prodotto assolutamente nuovissimo ed esclusivo di cosa si tratta anzi è in anteprima per la prima volta appunto sul mercato vedete i nuovi snack salati gran pavesi che è una nuova tecnologia che abbiamo sviluppato e abbiamo pensato anche di creare di portare nel mondo della distribuzione automatica in confezioni monoporzione sono le nuove crancine e sfogline quindi due livelli diversi di croccantezza applicati alla tecnologia degli snack con gusti che piacciono un po' trasversalmente a tutti dalle classiche sfogline alle crancine al gusto paprika al gusto barbecue e addirittura un gusto pesto e queste sono le novità che barilla for professional va a presentare quest'anno a venditalia marco voi continuate a sfornare prodotti nuovi li studiate li provate per più mesi e alla fine poi al momento giusto li andate a proporre naturalmente si tratta di un lavoro preziosissimo certosino e fatto anche di grandissimo impegno da parte del vostro ufficio ricerca e sviluppo assolutamente sì dietro ciascun prodotto c'è tanta tecnologia tanta ricerca tanta innovazione tante prove tante sfornate e soprattutto tanto impegno nel fare prodotti buoni ma anche equilibrati dal punto di vista nutrizionale e con un'attenzione anche alla sostenibilità perché tutti gli imballi sono comunque riciclabili nella filiera corretta con le opportune indicazioni sempre riportate anche sulla singola monoporzione. Marco Gandolfi grazie e noi ne parleremo nei prossimi numeri di vending news la rivista bimestrale della distribuzione automatica nel frattempo ti saluto ti ringrazio e ti invito a salutare tutti loro per andare poi a parlarne ulteriormente su tutti gli altri nostri strumenti grazie marco grazie mille e un saluto a tutti gli spettatori di vending tv e arrivederci a presto alle prossime novità e alle prossime fiere grazie